Quindi chiedi, mettete le sedi sotto il banco Maestra, fatti così, grandi Questa bella panneggiata ci facciamo tra mattina Io cammino con la via di mattina Forza, forza, camminiamo, sono in piedi, ce ne andiamo Legge ai belli, sono sterni, fanno fatti un po' di due Io cammino e non ti interessa, vado avanti, vado a terra Vado indietro, vado avanti e mi fermo proprio qua Un bacino e un po' di due, mi faccio, 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 mi faccio Non si fa non barfone mai, non so che non barfone mai Devi stare molto attento e ti fermo proprio qua C'è una bella parte, vada continuando stamattina, vado dalla cia argentina e mi mangio un beccadre. Poi non so se vado a casa, o se vado al piatto a sola, mi diverto stando attento e mi fermo proprio no. Papile mami, papile mami, non so forte, non so forte. Prendi, punto, piano e ti fermi qua. Randi? Sì. Una bella carpetina e la valianta. Sì. La razza perdita, l'apunti, un a które dentro tra la la. Razzestzi con la cusacettina e la rastrago. Aiuto, mamma. Sì. E Sie la rego stasento seu smithemmi proprio qua. Ah, allora, are you here. Si. E rifrende stamattina e la bella carpetina, soffa una a 43 a 4, Siamo pronti? Non state male però, eh? Questo è il basso del gigante, con il tasso cento metri, tu cammini sopra i letri, che ne vai anche a te letri, camminando con il gigante, io cammino tante tante, devo stare molto attento e mi fermo. Siamo pronti! Il cavallo! Forza, 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 bello, ma che bello, do a te e le costano uno, ma che bello, tra l'altra! Forza, forza, col cavallo devo stare con il bordeco, il tuo tuo pello, ma che bello, ecco sto in casa! Forza, forza, col cavallo, bello, bello, molto bello, devo stare, forza, bello, ma che bello, ma che... E il cavallo cuorso, bel lo posto, del rodMC, del Mozbogo sale molto atento e se metto. Ma non è una ma né, banalhina non è una ma nulla Allora, ho portato un flauto, una campanella, seduto per favore, una campanellina, è bello? È importante che stai seduto, poi ho preso, vatti a sedere che te lo faccio più vicino anche da te, dai, lo metto qui nel mezzo, vatti a sedere però, per favore, questo è un lovetto kinder e lo ho messo di dentro, ma vengo io, dei fagioli, dei fagioli tamuelino, vatti a sedere, allora, facciamo l'immagine di quello che è, e fa così, poi c'è questo tubo, ma un tubo potete vedere? No, forse è pronto? Ma non è così? Lui lo sapeva, no, sei un leo, allora, siccome Giorgio è rimasto seduto, vi faccio un indovinello a lui, lo vuoi fare? E allora, guarda Laura, sei pronto? Dai, buono, non vi girare? Sì, silenzio, si fa come? E allora, qual è secondo te il tuo sonaggio? Vediamo, provo a suonarlo tu, è quella? Vediamo? Sì, è quella, bravissimo! Andiamo, il rete lo vuoi fare tu? No! Non lo vuole fare? Non lo vuole fare tu? Non lo vuole fare io! Lo facciamo tutti quanti al giro, allora, guarda il tuo compagnetto, sei pronta? Non ti girare, eh? Allora, qual è questo qua? Questo? È difficile? Ah, è difficile? Ah, ci sono persone? È difficile? Ah, un poco poco sta ratiscando! È stata bravissima, qua ce lo sta neanche suonando, lo vuoi fare questo gioco? E allora, guarda Laura, sei pronta? Shhh, l'ascolta bene? No, io! Allora, secondo te, qual è questo qua? Vediamo questo qui, vediamo, suonalo, vediamo se te lo prendi? E qui, bellissima! Ah, non è più poco? E non è più poco? E non è più poco? Ah, ecco, sei pronta, un'ora? No, non è pronta. Non è pronta? Sì, mi sembra pronta. Allora, guarda Samuel, sei pronta? Shhh, partenti? Sì, aspetta. Allora, guarda Samuel, sei pronta? Sì, sei pronta? E come lo vuoi? Facile o difficile? Sì! Facile, sei pronto? Sì! Ci stiamo riprendendo? Sei pronta? Allora, ascolta bene! Io non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito. Ma riprendendo? Sì, adesso lo spaventa. Vediamo? Ah, molto bene! Bravissimo! Sì, sì, sì! Guarda, mi facciano, se abbiamo ancora messo. Aurora! Grazie! Sei pronta? Facilo di pizza! Sì! Allora, guarda alla tua compagnetta, come ti chiami? Non me lo ricordo. Ludovica! Ludovica, questo maestro ti scorda tutti noi. Guarda Ludovica! Silenzio! Silenzio che lei lo vuole un po' difficile. Silenzio! Silenzio! Ciao, ciao! Aspetta. No maestro 계속ello! Complimenti, questo non era facile perché erano due insieme, perché erano due insieme, lo vuoi fare tu? Ok, sei pronto, guarda Giorgio. E allora, guarda Giorgio, e allora guarda Giorgio, silenzio! E allora, guarda Giorgio, e allora, guarda Giorgio, e allora tu l'hai fatto facile? Un po' di silenzio perché Saguere, ma questo è quello difficile. Silenzio! Silenzio! Un attimo! Per favore, un'ora! Silenzio! Non di girare, non di girare, ascolta, ascolta, ascolta! Silenzio! 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 Ma... Allora... E qual'era che stavo suonando? Questo? Ma solo questo? Non ce n'era un altro? C'era questo e anche quello. Erano tutte e due insieme, questo l'ho fatto difficile, guarda, così non è difficile. Difficilissimo, adesso lo vedo. Molto, molto bene! Allora... Molto bene! Molto bene! vìcilia! Viva terra! Renata! Rensila! Viva terra! Mirata! Vuota nell'acqua! Multano! Torni genera! Sìììì! Così listenera! Così? Uh, così!